Eccola, eccola vai! No, no, povera, è questa che bella. Partita questa, ma per ora è partita bella. Lo stiamo strati, lo stiamo strati. Allora, io mi sto... Lo stavo, lo stavo, lo stavo, lo stavo... Ho fatto la lampadina, ragazzi. Ho fatto paura, ha avuto paura, eh, ha avuto. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Lo trovo, lo trovo, c'è. Cuicchetta! Cuicchetta! Cuicchetto! Allora, voleva prendi il tuo. Ma il renale, il renale non ce l'ha. Guarda io il renacchio. No problem! Guarda se da regolare! Cuicchetto, cuicchetto! Cuicchetto! Mai una gioia, mai una gioia! Oh cazzo, non sta andando eh! Di friggio? Eh? Di friggio un po'. Quanti metti in pratica? 55. Questa è quella che fuori, eh? C'è un buono di anche dentro, eh? Cosa che 50 metri di io la mia non mi abbassa. Io ce ne lascio lì a posta. Stai capito? Sì, sì, sì. Che acqua si è in dottaggio? Che cosa si può tenere a fare? Api pipo? Sì. Sì, sì, sì. Terminale dentro. Ti metti a mano? Vieni qui, eh! Avete sbriciolato tutte? Inizio. 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 Vai, inizio. Ja, signora. Vai, Luca! a me ti lo... piano! un po' ecco andati vai ora prendi la tannola no devi reggere qui un attimo finisce? bene vai Luca eh vado guarda 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 Grazie a tutti.